C'è sempre una possibilità di vincere le Olimpiadi, anche a 60 anni. Beh, ovviamente questo è un paradosso, una provocazione, che ci permette di entrare all'interno del cappuccino di oggi. Il caffè è più buono se ristretto. Forte sì, ma non troppo lungo. Se vuoi prenderti il tempo per gustarti una brioche, molto meglio il cappuccino. Sempre forte, ma pacato. Un cappuccino con Paolo, quando il tempo di un caffè non basta più. Sempre con Paolo Pugni. Sta girando l'Italia in questo periodo uno spettacolo, uno spettacolo veramente interessante con Luca Argentero, sì, quello di Doc, che si intitola È questa la vita che sognavo? Ne ha parlato qualche tempo fa il Corriere della Sera, versione milanese, e mi sembra uno spunto interessante, anche perché me l'ha suggerito Franca, e quindi è interessante per definizione, per ragionare un po' sui nostri sogni, sulla nostra concretizzazione, su come stare dentro la realtà quotidiana. Sto tenendo come tutti gli anni in questo periodo un corso sulla leadership personale, sulla capacità di progettare il futuro a studenti universitari in una residenza con il progetto Jump, che è un progetto voluto dalla Fondazione Rui tanti anni fa, appunto collaboro con questo progetto, credo forse dall'origine o poco più, più di dieci anni di sicuro, e nel presentare cosa sia un sogno, cosa sia una missione, cosa sia una visione, cosa sia la capabilità, Tra i vari personaggi che porto all'evidenza c'è sicuramente il colonnello Sanders. Chi di voi sa chi è il colonnello Sanders? Alzate le mani, ne vedo pochine, ne vedo pochine. Il colonnello Sanders è il fondatore della Kentucky Fried Chicken, una delle più grandi catene di fast food, non solo presente negli Stati Uniti, ma nel mondo. Perché viene portato come esempio? Perché cominciò ad avere successo dopo i 65 anni. Ripeto, dopo i 65 anni. Nel 1955, finalmente riuscì a brevettare il suo modo di friggere il pollo e cominciò ad andare in giro a proporre il modello per aprire dei franchising e ottenne mille, mille, uno, zero, 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 rifiuti prima di poter cominciare ad espandere la sua catena. E questo avvenne quando aveva, come dicevo, 65 anni, 23 anni dopo che aveva cominciato a lanciare nel suo negozio questo tipo particolare di frittura del pollo. Qui non parliamo di polli, non parliamo di frittura, ma parliamo di caparbietà. E allora vorrei tornare allo spettacolo di Luca Argentero che mi ha dato parecchi spunti, parecchi stimoli. Ad esempio, in una frase che suona così. Quando ho compiuto 40 anni mi sono chiesto è questa la vita che sognavo da bambino? La risposta è stata no, è molto meglio. Ecco, ce lo diciamo anche noi che questa è la vita che sognavamo da bambini ed è forse molto meglio? No, da bambini cosa potevamo sognare? Che cos'era la vita che sognavo quando ero bambino negli anni 60? Quando mia madre mi distrusse, mi buttò via nella spazzatura il piccolo chimico perché avevo sporcato in maniera apparentemente indelebile una piastrella del bagno, una piastrella di un verde smagliante a cui lei teneva molto nei miei giochi di piccolo chimico. Tra l'altro dandomi un messaggio di metacomunicazione molto forte. Sono più importanti le mattonelle del bagno di quello che fai tu. Ma questo, se volete, c'è un pizzico di malizia che dipende da quello che è accaduto dopo quella data. Ma decisi quel giorno di fare il chimico e infatti sono laureato in chimica industriale. La vita che vivo adesso è meglio? È peggio? È diversa? Sicuramente sì, è molto diversa. Ha sfide, preoccupazioni, difficoltà, tante come tutti, problemi tantissimi come tutti. È migliore di quella che sognavo? Sì, sicuramente lo è, perché è la mia vita oggi, è la vita in cui sto io oggi e ci sto bene, perché riesco a cogliere tutto il bello che c'è istante per istante, a partire dalla persona che mi è accanto da tantissimi anni e che veramente mi rende felice in ogni momento, che fa la differenza. E credo di avere questa grazia, che non è sicuramente mia, che è quello di riuscire a estrarre da questo tesoro di cose vecchie, antiche, che è la vita di tutti i giorni, le cose migliori. Ma che sia possibile farlo ce lo dice ancora Argentero nel suo spettacolo e quindi voglio andare a prendere altri due esempi che mi sembrano significativi. Lui racconta non solo di se stesso e di come vorrebbe vincere le Olimpiadi, segno di nuovo paradossale di quegli obiettivi che ci possiamo porre a qualunque età, che siano smart secondo la nomenclatura, cioè specifici, misurabili, ambiziosi sì, ma realistici e tempificati, con una scadenza. Ma parla anche di altri personaggi che in qualche modo hanno lasciato un segno, anche se minimo. Ad esempio, Louisine Malabrocca, Louisine che sta per Luigi. Lo conoscete? Se di nuovo qualcuno sa chi è, alzi la mano? Anche qui non vedo tante mani. Beh, per forza, perché è un personaggio che forse è diventato più significativo e importante dopo la sua scomparsa piuttosto che prima. È l'inventore della maglia nera, cioè la maglia che tocca all'ultimo del Giro d'Italia. Già, perché anche l'ultimo ha la sua dignità. Io credo che quando voglio descrivere in qualche modo l'immagine del deluso, dell'amareggiato, dell'ultimo, ma proprio nel senso ontologico della parola, io non parlo dell'ultimo, perché gli ultimi potranno essere i primi, ma parlo dei penultimi. Perché il penultimo non se lo fira nessuno. L'ultimo ha la maglia nera. Questo segno comunque di essere importante anche lui. Ed è una bellissima lezione. Tutti sono importanti, a prescindere dalle performance, perché il Giro d'Italia misura questo. E poi un altro personaggio che viene raccontato in questo spettacolo, che purtroppo non ho fatto in tempo a vedere a Milano, anche perché è rimasto il soffio di un weekend. Ed è Walter Bonatti. E qui cito quello che Argentero ha dichiarato al Corriere della Sera, versione Milano, a proposito di questo personaggio. Con Bonatti la riflessione è più intima. Quando arrivi in cima alla montagna più alta, non trovi nessuno per darti la medaglia. Ciò che trovi lassù è una sola cosa, la sfida con te stesso. Ora, io non sono uno scalatore, non sono Walter Bonatti, ma ho una sensazione del genere, parimenti amara e affascinante. L'ho provata quando sono arrivato sulla piazza di Santiago de Compostela, davanti alla cattedrale, che è la fine del percorso di Santiago, del cammino di Santiago. Perché ci arrivi stremato, ci arrivi stanco, ci arrivi avendo attraversato la città, che è il momento più brutto di tutto il cammino, perché ti trovi davanti l'indifferenza di chi dice ancora un altro pellegrino, ma non hanno finito, sono secoli che vengono avanti e indietro ancora questi pellegrini, perché attraversi la periferia, le zone che non hanno neanche quel fascino del cammino, ecco, arrivi in fondo, arrivi sulla piazza e aspetti che si accendano le luci del Luna Park e dicono Paolo è arrivato, tutti in piedi ad applaudire Paolo. E di nuovo non ti fila nessuno, sei da solo con il tuo compagno di cammino ad arrivare lì a dire sono arrivato in fondo, la medaglia te la dai da sola, è un momento di profonda amarezza e di profonda gioia, se capite cosa vuol dire mettere insieme queste due sensazioni che appaiono così distanti e invece sono così vicine. Ed è il momento di ripartire, è il momento di affrontare quello che viene dopo il cammino e che il cammino ti ha lasciato come eredità, ma prendo il cammino come metafora di tante cose che possiamo avere nella vita. Ecco, oggi c'è tanta voglia di affermarsi, tanta voglia di sentirsi realizzato, mi pare di notare che spesso questa sia una voglia di affermarsi contro qualcosa, contro qualcuno, per opposizione, per conflitto e ho dei forti dubbi che questo sia il modo migliore per dare un servizio non solo alla comunità ma anche a se stessi. Buon cappuccino a tutti. Un cappuccino con Paolo va in onda grazie a Podbits, il team che ti aiuta a tradurre le tue idee in podcast e la tua voce in libri. Trovi tutti i caffè e i cappuccini con Paolo sul canale Telegram telegram.me slash caffè con Paolo senza l'articolo mi raccomando Caffè con Paolo sempre su Telegram puoi contattarmi telegram.me slash paolo pugni Grazie e alla prossima puntata.